Tre le imprese che si sono aggiudicate ai lavori per il completamento della diga di Chiauci. Ieri a Pescara, insieme al governatore della regione Abruzzo e al commissario del consorzio di bonifica Franco Amicone, c'erano anche i sindaci molisani Alessandro Di Lonardo e Roberta Ciampittiello, rispettivamente di Chiauci e Civitanova del Sannio. In tutto ci sono 29 milioni di euro per il potenziamento idrico della capacità dell'invaso di Chiauci, di cui 25 milioni da parte delle regioni Abruzzo e Molise e 4 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, questi ultimi finalizzati all'ulteriore potenziamento strutturale. Ieri il Presidente ha illustrato l'impiego dei primi 14 milioni del finanziamento del masterplan sottoposti a procedura di gara per la scelta dei contraenti, che sono tre, il consorzio stabile Pentagono, l'ATI ed il Florio Fratelli Persi e Florio Giuseppe e la Tenaglia SRL. Il ribasso complessivo ammonta 1,7 milioni di euro. Si tratta di lavori strategici, ha spiegato D'Alfonso, che abbiamo messo in agenda appena ci siamo insediati, andavano fatti 20 anni fa. Abbiamo fatto sì che attraverso questo intervento aumentasse la capacità idraulica dell'invaso per 1.200.000 metri cubi di acqua, che serve non soltanto alla cittadinanza, ma anche al sistema delle imprese a confine tra Abruzzo e Molise. Il Governatore dell'Abruzzo ha ammesso che la procedura è stata snervante per via di una complessa raccolta dei pareri, ma anche per l'esigente copertura finanziaria. Fiduciosi si sono mostrati anche i sindaci molisani, in particolare la prima cittadina di Civitanova che ha evidenziato l'attenzione mostrata per il territorio, che non si era mai vista negli ultimi 30 anni, grazie ai presidenti di Abruzzo e Molise, che fa ben sperare perché il proseguo dei lavori avvenga nel pieno rispetto dei territori, ha concluso Roberta Ciampittiello. Fortemente convinto della strada intrapresa, si è detto anche il sindaco di Lonardo, fiducioso che questa volta l'impegno sarà mantenuto e che grazie alla volontà dei Regioni, Consorzio e al nostro appoggio, l'opera venga conclusa entro il 2021. Grazie a tutti.